Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il derby marchigiano è della fermana. I canarini battono il fan a domicilio con un gol di Cognigni e si rilancia in classifica, mentre Granata incassano addirittura l'ottava sconfitta consecutiva. Se non è un record, negativo si intende, poco ci manca. Al Mancini buona cornice di pubblico e punti pesanti in palio. Consueto 4-3-1-2 per Fontana con Baldini e Ghiucci davanti e parlati in tre quarti, mentre Antonioli conferma il 3-5-2 con Rolfini al fianco di Cognigni davanti e D'Angelo nel ruolo di Mezzala. Esordio dal primo minuto di De Pascalis nella linea 3 difensiva, il luogo dello squalificato Manetta. Ritmi alti tenuti dal fano nella prima parte di gara. Anche se Granata si rendono realmente insidiosi solo con un sinistro velenoso da fuori i parlati, deviato da Gemello. Fermana, che si rende realmente pericolosa in due circostanze. La prima con Rolfini, ben imbucato da Urbinati, che trova Viscovo in uscita ad salvare tutto. E poi ancora con Rolfini, che ruba palla a Viscovo, rimette al centro dove Cognigni non trova la deviazione vincente. E il successivo destro di Jotti non trova lo specchio. La ripresa inizia subito con il vantaggio della Fermana, grato all'uomo della trasferta, Luca Cognigni, che deposita in rete dopo che Rolfini, in piena area, era stato atterrato. Il vantaggio senza dubbio colpisce il fano, che non sembra lucido nella manovra, e la Fermana al ventesimo con Rolfini rischia di centrare anche il raddoppio, ma la sua spaccata in allungo è controllata dall'estremo ospite. Inizia la girandola di Cambi, dopo la mezz'ora, e si fa viva all'alma, con la girata di sinistro di Canis, controllato da Gemello. Punizione di Gatti, con il mancino che si perde di poco sopra l'incrocio dei pali. Il finale è convulso, il fano ci prova in tutti i modi a pareggiare, ma la difesa canarina regge. E alla fine i ragazzi di Antonioli portano a casa tre punti fondamentali.